In primo piano Convocata il 23, il 25, il 27 gennaio, la terza commissione prosegue l'esame della riforma dell'attività venatoria sulla base di quattro proposte di legge presentate da vari gruppi consigliari che esprimono le diverse posizioni sulla caccia, comprese alcune istanze delle associazioni che hanno chiesto il referendum. Sull'argomento sentiamo il presidente della terza commissione, Gianluca Vignale, e il consigliere Mino Taricco, Partito Democratico. Continua in sede di terza commissione la discussione sulle proposte di legge sulla caccia, la volontà è quella di dare una nuova norma al Piemonte sull'attività venatoria e un'altra novità importante è che la commissione sta lavorando in sede redigente, cioè alla fine dei lavori della commissione il consiglio dovrà esprimersi soltanto più con un voto e non riprendere tutto il lavoro già fatto in commissione anche in sede di aula. La nostra proposta ha l'obiettivo di gestire al meglio l'ambiente e la ricchezza faunistica della nostra regione. In questo momento crediamo sia fondamentale poi recuperare lo spirito dei quesiti referendari per fare una buona legge che tenga conto di questa indicazione.